Si archivia l'edizione zero del Festival dello Spettatore, un'occasione ideata per la prima volta in Italia che ha concentrato l'attenzione sul pubblico. Il programma, che si è svolto in vari spazi cittadini dal 19 al 23 ottobre, ha proposto un cartellone composto non solo da spettacoli, ma soprattutto da una significativa quantità di eventi collaterali come incontri, convegni ed altre attività che pongono l'attenzione ai percorsi di avvicinamento e coinvolgimento dei cittadini alla produzione culturale. Il Festival è andato più che bene, sia da un punto di vista numerico, perché la partecipazione è stata sopra alle 2000 presenze tra spettacoli e incontri pomeridiani o di mattina, ma non solo da un punto di vista quantitativo, che comunque ha la sua importanza, ma anche da un punto di vista qualitativo, questo in particolare negli incontri, nelle occasioni di laboratorio, di workshop, di conferenza che ci sono state nei cinque giorni di durata del Festival. La chiusura del Festival domenica sera è stata affidata ad Antonio Rezza e Flavia Mastrella, che hanno presentato l'anteprima nazionale del film Milano via Padova. Un lungometraggio tra film e documentario girato in un quartiere di Milano, dove italiani e stranieri convivono ad alta tensione. Non è un film sociale, cioè non è un film che tende a risolvere i problemi. Noi non risolviamo quei siti, creiamo problemi a nostra volta a chi vede. Quindi non siamo per curare le ferite di chi si sente lesionato da pensieri di intolleranza reciproca. Noi facciamo il lavoro per noi, poi quello che è il risultato si emoziona e non dipende certo dalla nostra volontà.